Ora se mi consente, se sarà come l'altra volta, se piace, tra breve, col padrone del ristorante, con tutta l'equipe di cuochi, ma se tanti uomini sognano assieme, vuol dire che sta avvenendo una nuova realtà, è giovane e bello e anche abbronzato, del fatto che mia moglie ho detto e ripeto che mi sembra doveroso non parlare, resta solo un sogno, mi fa pensiero, sta sveglio magari tutta la notte.